Allora eccoci di nuovo in diretta affrontiamo adesso un argomento molto importante quello della giornata di ieri è stata contro la violenza sulle donne si è tinta di rosso anche eh Palazzo Chigi proprio per manifestare la vicinanza a tutte le donne che subiscono violenza ogni anno e purtroppo sono tante un numero importante ma soprattutto il nodo da sciogliere è quello che non denunciano o denunciano troppo tardi o a volte denunciano ma non vengono prese in considerazione perché perché magari si pensa che sia frutto di un momento di emotività e non vengono credute eh nel dovuto e poi assistiamo a fatti di cronaca tremendi che purtroppo colorano di rosso la nostra bella Italia. Allora io vorrei affrontare questo argomento con la dottoressa Alexia Di Filippo psicologa e psicoterapeuta intanto vorrei ritornare un attimo sul fatto di cronaca delle due prostitute cinesi che sono state uccise brutalmente ed è stato prontamente trovato il colpevole dalla polizia con un tempismo veramente incredibile e questo gli va dato lode ma purtroppo un crimine è ferato e addirittura la persona poi che ha effettuato questo crimine una volta interrogato aveva anche un filmino che aveva girato da solo posizionandolo prima di ucciderle quindi la premeditazione a un livello esasperato e al momento dell'interrogatorio ovviamente sono molto abile la polizia a cercare di tirar fuori il colpevole volevano fargli sentire queste grida lui è chiuso l'orecchio e ha detto no non lo posso sentire e qui parliamo di una premeditazione orribile dottoressa di filippo è così nelle nell'immediatezza del fermo di del colpevole di questo terribile fatto di cronaca dell'uccisione di queste povere donne in modo tanto cruente e cruento avevamo già identificato una modalità di procedere tipica di uno spree killer quindi disorganizzata in rapida sequenza in luoghi limitrofi diciamo che il caso di quest'uomo è molto complesso perché se da una parte il modus operandi suggerisce appunto la disorganizzazione dall'altra il discorso del filmato ma anche il dubbio che hanno gli inquirenti che essendo una persona facente parte di certa criminalità che aveva dei precedenti si sospetta che ci possa essere un movente anche estorsivo nei confronti di queste donne quindi davvero un caso molto complesso che è accaduto pochi giorni alla vigilia della giornata internazionale per l'abolizione della violenza contro le donne e tra l'altro vorrei anche citare un altro caso perché ci dà modo insieme a quest'altro di cominciare il nostro inquadramento circa il fenomeno tragico della violenza contro le donne il ritrovamento del corpo di Saman Abbas la ragazza che l'anno scorso a fine aprile è stata fatta sparire dai familiari qui in Italia perché rifiutava il matrimonio combinato con un connazionale ecco che queste due vicende si pongono a diciamo agli opposti indicandoci che a poche ore d'aereo o ad alcune ore d'aereo dall'Italia vi sono ancora delle donne le donne in delle posizioni di minorità familiare ma anche sociale pensiamo a quello che è successo a Masha Amin che è stata trucidata perché spuntava una ciocca dei capelli da Lijab e quindi abbiamo una dobbiamo ricordarci che i grandi diritti che le donne hanno conquistato nella nostra parte del mondo in altri in altri luoghi sono completamente misconosciuti sono continuamente violati e d'altra parte il crimine che riguarda queste povere donne che si prostituivano ci ricorda che anche nel nostro cosiddetto occidente progredito tante donne sono vittime di schiavitù sono soggette comunque a violenze esposte a motivo di proprio di attività che troppo spesso soprattutto la prostituzione d'alto bordo per non parlare di quella patinata che si è spostata nell'online che vengono dipinte dipinte in maniera eccessivamente ecco patinata mentre sono dei casi comunque di violenza e delle di espropriazione del corpo della donna alla donna stessa. Ecco io vorrei a questo punto dottoressa interromperlo un attimo perché vorrei sentire le parole della presidente Meloni proprio relativamente al fatto del perché le donne poi alla fine non denunci no? c'è stato alla camera dei deputati vista appunto di questa giornata internazionale la violenza contro le donne un evento e abbiamo appunto ritagliato alcune dichiarazioni della presidente Meloni sentiamo. Le donne non sempre denunciano perché sono ricattate dalla presenza dei figli perché non sono autonome economicamente perché hanno paura perché si illudono che l'uomo cambierà perché c'è di mezzo un rapporto affettivo perché si credono deboli o perché si sentono sole è su questi ultimi due punti che noi possiamo incidere di più far toccare con mano alle donne che non sono sole che la società le sostiene che crede alle loro denunce che in grado di fornire vero sostegno è necessario aiutare le donne a scoprire che non sono deboli ma che sono in grado di ribellarsi di trovare in se stesse la forza di andare avanti di cambiare la propria vita e quella dei figli che assistono alle violenze ne sono direttamente vittime ecco e poi abbiamo un altro racconto molto triste quello di una donna abusata durante la fisioterapia dall'uomo che avrebbe dovuto alleviare appunto le sofferenze di questa sua malattia storia di manuela seguiamo insieme questo piccolo estratto mi chiamo e manuela ho 34 anni sono nata con una tetra paresi spazzica distonica neonatale mia mamma è morta di parto ho avuto un'altra mamma adottiva che è la mia mamma a tutti gli effetti a 17 anni e manuela che ama i cavalli frequenta un centro di riabilitazione dove si pratica l'ipoterapia un giorno il suo solito fisioterapista è assente era venuto quest'altro fisioterapista era un giorno che pioveva e lui mi fa non andiamo a cavallo facciamo attività nella stanzetta l'uomo si propone di insegnarle un esercizio di respirazione facendole credere che potrebbe farla camminare quindi lui mi alza dalla sedia mi fa appoggiare le mani sul tavolo da dietro mi tira giù i pantaloni e mi dice respira forte respira forte non sapevo quello che stavo facendo respira respira più forte respira dai così camminerai starai meglio dritta con la schiena tornata a casa emanuela non si sente bene parlando con la madre capisce di essere stata stuprata abbiamo deciso di denunciare dopo la perizia per verificare l'attendibilità di emanuela a luogo il processo ma per lei non è facile convivere con il trauma la notte e sognavo sempre lui che che mi stava facendo sesso che tutte le cose che lui mi aveva fatto durante il giorno continuavano nella notte quindi avevo un abuso sessuale pure a livello psichico si scopre che l'uomo ha commesso altre violenze sessuali in varie regioni condannato al carcere dopo aver scontato la pena l'uomo torna in libertà io so che lui ora l'hanno liberato e io ho una paura più grande di me che lo possa fare sempre e lo possa fare pure con gente che non parla che non ha la mia se sta capacità di dire alta una situazione che far venire la pelle d'oca è il minimo abusare di una ragazza disabile in questo modo e poi tornare in libertà aberrante atroce è una storia di una violenza assurda dottoressa proprio così questo uomo agito come un predatore sessuale e me lo fa dire anche la recidività perché come ha detto questa ragazza coraggiosa appunto era già stato si era già reso responsabile di altri atti atroci come questo e queste sono le falle che si ravvisano nel sistema giudiziario quando che oltretutto propone tra virgolette un percorso alla donna che è tutto in salita la donna fa fatica come diceva anche il presidente Meloni ad essere creduta fatica a denunciare proprio a margine del credo che queste sue dichiarazioni fossero state fatte proprio a margine anche della relazione della commissione parlamentare del senato sul femminicidio dove i tecnici della commissione avevano evidenziato che solo il 15 per cento delle vittime considerate aveva denunciato proprio per sfiducia nel sistema giudiziario e d'altra parte se consideriamo i dati istat dall'anno scorso sono state uccise 104 donne 88 in ambito familiare di queste 52 per mano del partner o dell'ex partner e devo dire che anche si parla di un clima generale sempre relativamente alla relazione di questa commissione un clima generale relativamente a questi atti criminali compiuti in danno delle donne di impunità e molti magistrati anche devo dire denunciano il fatto che quando questi individui vengono ristretti in carcere non si segue poi i leader che fanno quando escono se realmente seguono i percorsi che vengono loro consigliati e soprattutto non si dovrebbe mai consentire che una persona che si è macchiata di reati contro persone inermiche dovrebbe aiutare potesse rientrarvi in contatto su questo ci dovrebbe essere oltre che una pena esemplare ma anche un controllo regolare e quindi questo aspetto della legge che ha questa problematicità era stato anche espresso l'anno scorso dal presidente del vicario del tribunale di Milano il dottor Fabio Roia che aveva detto proprio questo ovvero sia che l'85% delle vittime quindi vedete i dati chiaramente sovrapponibili appunto non aveva denunciato per sfiducia nel sistema giudiziario e ravvisava la necessità con la quale io sono assolutamente d'accordo di formare gli operatori dei centri antiviolenza ma io ci aggiungerei anche gli operatori delle relazioni di aiuto nonché anche i magistrati che non hanno formazioni specifiche in tema per fare in modo che le donne non vengano sottoposte a delle vere e proprie torture non vengano mal giudicate per atteggiamenti che vengono interpretati come una loro ambivalenza mentre invece sono lo specchio delle gravi manipolazioni e delle pressioni che subiscono da parte degli abusanti fin dentro l'aula del giudizio e che a volte oltretutto queste dinamiche vengono a loro ascritte, gli viene data la responsabilità d'altra parte anche nella relazione della commissione parlamentare del senato che al cui margine si è espressa anche la presidente il presidente Meloni ribadiva proprio questa necessità di formazione degli operatori a questo proposito io vorrei sentire anche le dichiarazioni del direttore del pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova perché il primo soccorso di queste donne vittime di violenza lo hanno nel pronto soccorso però i pronto soccorsi devono essere dotati di presidi devono avere risorse aggiuntive per offrire servizi ad hoc per queste donne vittime di violenza sentiamo nel servizio cosa dichiarato è una bellissima iniziativa che gli amici dell'IOS di Genova Sestri, Sextium Aeroporto hanno fatto e con l'aiuto del signor Drago che ha un'industria a pelli che produce tante cose buone fra cui i panettoni abbiamo dato vita a questa iniziativa che permetterà al nostro pronto soccorso al nostro ospedale di avere risorse aggiuntive per offrire servizi sempre migliori per le persone in particolare le donne vittime di violenza purtroppo nella nostra città e nel nostro ospedale i dati sono in linea con i dati nazionali quindi poter offrire un servizio sempre migliore che va dalla formazione del personale all'accoglienza, alle stanze di degenza, alle psicologhe è un servizio importantissimo che vogliamo continuare ad offrire abbiamo circa 400 persone in particolare quasi tutte donne che si rivolgono al nostro pronto soccorso all'anno per asserita violenza e le nostre psicologhe hanno fatto circa 3200 colloqui in un anno perché le persone vengono sentite e assistite più volte. Ancora questo dato però non comprende le cosiddette sospetti di violenza o violenza non dichiarata o sottese che guardando il dato nazionale corrispondono a 3 o 4 volte il numero invece delle violenze dichiarate. Noi ormai sono quasi dieci anni che offriamo questo servizio al pronto soccorso del Galliera e siamo l'unico ospedale della regione che ha le psicologhe presenti in pronto soccorso dalle 8 del mattino alle 18 e il sabato fino alle 14.30. Questo ci permette di isolare subito le persone vittime di violenza o con sospetto vittime di violenza e poterle avviare immediatamente a un percorso più protetto rispetto al grande sovraffollamento del pronto soccorso dove la psicologa ha modo di parlare, di informare la donna, di avviare un percorso di colloqui successivi o nei casi più gravi, e purtroppo ce ne sono, di utilizzare tutte le strutture dell'ospedale per esempio i casi di violenza sessuale si lavora assieme ai ginecologi, laboratorio analisi e quant'altro e in più di avviare queste donne che non possono rientrare a casa o a un ricovero breve in ospedale per poi essere avviate nelle strutture protette, le cosiddette case protette che sono ancora purtroppo in numero non sufficiente nella nostra realtà genovese visto l'entità del fenomeno. Allora un'iniziativa nobile quella del dottor Cremonesi dell'ospedale di Gevano di voler mettere a disposizione anche le psicologhe nel pronto soccorso allorché arrivino delle donne abusate che hanno bisogno come primo impatto a parte delle cure mediche proprio dello shock che hanno con la psicologa. Trovo quantomeno particolare il fatto che dice tutti i giorni fino alle 18 il sabato fino alle 14. Cioè non è che c'è un orario per presentarsi al pronto soccorso. Allora quel sistema questo è tipicamente italiano allora o facciamo le cose fatte bene o ci prendiamo in giro. Allora se dobbiamo inserire all'interno del pronto soccorso delle psicologhe perché purtroppo se viene sentita questa esigenza vuol dire che sono molte le donne che si regolano al pronto soccorso non me lo puoi bloccare alle 14 il sabato né tantomeno alle 18 durante la settimana. Fai una derunnazione H24, fai un bando per assumere le psicologhe che molte sono senza lavoro, le fai lavorare all'interno di una struttura ospedaliera e levi quel carico ai medici che magari devono assistere ad un infartuato. Quindi snellisci il lavoro ma non me lo fai fino alle 18. Ma perché alle 19 arriva una abusata e dice no scusa ha staccato la psicologa. lo vedete che è ridicolo? Cioè è ridicola questa organizzazione. Cremonesi è tanto carino dell'ospedale di Genova che vuole partorire questa iniziativa perché le donne abusate sono tante. Ma non dategli un orario perché non è che il maniaco, il marito matto, il fidanzato aggressore aspetta la devo aggredire entro le 18 se no questa poi va al pronto soccorso e non trova la psicologa. Ma di che siamo? Ma è ridicola questa cosa. è ridicola? Cioè mettiamo H24 un bel bando eh? Servono i soldi per la sanità appunto ve l'ho detto e assumiamo tutte le psicologhe con le turnazioni di 24 ore dentro il pronto soccorso che si occupano di questo perché non ci sono solo le donne abusate arrivano pure i matti, le persone che hanno degli sciocche e sicuramente il medico di medicina d'urgenza è bravo a operare, a tamponare, a cucire, a ricucire le ferite ma queste cose non è in grado di farle perché è un medico, non è uno psicologo, non è uno psichiatra quindi un'opportunità lavorativa che risolverebbe anche tante emergenze. Ne vogliamo aggiungere un'altra? I famosi centri di consulenza che ogni asle dovrebbe avere per le ragazze, no? Che si approcciano al primo rapporto vogliono sapere, prenderò la pillola, non c'è nessuno, provate ad andare. Non c'è nessuna psicologa. Se vai a vedere nell'asle riceve il mercoledì dalle 11 alle 11.30 ogni asle di Roma, di Milano, di tutte le città d'Italia viene così di gente allora se un ragazzo o una ragazza hanno dei problemi anche familiari vogliono aiutarsi perché già voler andare dalla psicologa è il primo passo per affrontare il problema quelle del consultorio lavorano mezz'ora a settimana perché l'asle non le paga e non è colpa loro perché non c'è il budget, non c'è il budget e allora non c'è il budget, io me lo sento ripetere la TAC non c'è il budget per togliere il cellophane e farla funzionare non c'è il tecnico perché non hanno i soldi per avere il tecnico la psicologa non c'è il budget e non sta nel consultorio al pronto soccorso ce lo vogliamo mettere sì ma sta a canale 18 e il sabato alle 14 facciamo ridere, le donne continuano ad essere abusate continuano ad essere percosse, continuano ad avere botte, controbotte e non ci sono i riferimenti quindi quando parliamo di tante ghiacchiere sulla sanità no serve questo serve quello ma entriamo dentro i problemi andate in un pronto soccorso voi politici così d'amblè una notte qualsiasi e vi renderete conto della realtà triste che devono affrontare gli italiani quando stanno male e stare male vuol dire anche stare male dal punto di vista della psicologia avere dei disagi che se affrontati e risolti non provocano danni dottoressa assolutamente l'iniziativa certamente è lodevole ma si occorrerebbe, si dovrebbe creare un presidio fisso non solo ma è vero il fatto, risponde al vero che i colleghi sulla rete territoriale sono gravemente sotto organico e quindi con ogni probabilità non ce la fanno a coprire l'esigenza di seguire le donne che invece sarebbe tanto importante occorre proprio anche un cambiamento di mentalità anche nel formare gli operatori dei centri antiviolenza ma anche gli operatori della salute a mio giudizio perché un aspetto che è stato sottolineato più volte è quello che le donne vengono spesso fatte oggetto del fenomeno del victim blaming ovvero sia vengono incolpate la vittimizzazione secondaria vengono incolpate di ciò che succede loro e in qualche modo vengono poste sul banco degli imputati invece di essere credute, difese, protette tant'è vero che anche la commissione parlamentare ha espresso il fatto che di fronte ai casi di violenza non infrequentemente i giudici rimandano alle CTU oppure ai servizi sociali per valutare le situazioni di violenza mentre siccome si è valutato che tra una denuncia di una donna e l'uccisione, questa commissione ha stimato sono passati due anni ma in due anni come è possibile sono cronache di morti annunciate come è possibile che non si sia potuto fare niente quindi è necessario che le donne vengano credute e prese in considerazione ma per fare questo ci vuole un cambio di mentalità perché questo accade per gli stereotipi di genere e soprattutto per gli stereotipi sulla violenza che nel nostro paese ci sono queste incrostazioni ancora di mentalità patriarcale e redriva che purtroppo vanno poi a colpire soprattutto le donne che sono in uno stato di difficoltà e che hanno subito delle violenze Grazie dottoressa Di Filippo allora diamo la linea alla pubblicità e poi l'ultimo blocco di Dritto al Punto